Sabina Dulcimascolo, Presidente del Consorzio del Corallo di Sciacca, collaborazione con Azzurro Food quest'anno per la seconda volta consecutiva, la seconda volta che partecipate con una manifestazione che sarà in Piazza Duomo che si annuncia veramente interessante. Sì, quest'anno abbiamo voluto insieme con Antonio ripetere la mostra che avevamo fatto l'anno scorso con i gioielli e anche col percorso dall'isola Ferdinande alla nascita del corallo e in più quest'anno ci sarà la novità del videomapping che parlerà della scoperta del corallo, del mito e della leggenda e con i gioielli pure della Madonna. Per voi si tratta insomma di una collaborazione come tante ne fate ma è un momento soprattutto di promozione per quello che è un'eccellenza di Sciacca? Sì, per noi è una bella vetrina questa, il sagrato della matrice è uno scenario pazzesco e quindi anche quest'anno abbiamo voluto collaborare con Antonio per la manifestazione dell'Azzurro Food. Si parla di mare, si parla di ambiente, ovviamente è un po' mancare mare vivo che è presente in questa manifestazione con un'area dedicata alle famiglie. Sì, noi abbiamo creato questa grazie al coinvolgimento di Azzurro Food, quest'angolo che abbiamo chiamato Azzurro Kids ma non è un angolo solo dedicato ai bambini ma alle famiglie. Per noi in una manifestazione in cui si parla di pesce azzurro, di risorse ittiche, è importante fare sensibilizzazione perché parleremo di pesca sostenibile ma anche di consumo responsabile perché le regole per una pesca sostenibile non vanno seguite solo dai pescatori ma anche dai consumatori. Quindi spiegheremo il rispetto delle taglie minime, spiegheremo perché è importante per esempio non consumare ricci nei periodi vietati, perché è importante non consumare novellame. E in più per i bambini ovviamente ci sarà anche modo per lo svago, per svagarsi, perché ogni sera faremo realizzare loro dei disegni sul mare e ogni sera realizzeremo una mostra all'interno dello stand proprio con quei disegni. Sarà bello vedere come i bambini raffigurano il mare, cos'è il mare per loro.